ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rockpolitik di cosa parliamo oggi è notizia di pochi giorni fa il fatto che un ristorante sia stato beccato dalle forze dell'ordine con gente dentro che non aveva il green pass ecco prima di arrivare a conclusioni affrettate dare giudizi affrettati è importante cercare di capire le dinamiche che noi ovviamente non sappiamo perché sono cose private che i giornali non hanno voluto raccontare in maniera dettagliata ma l'importante è cercare di non prendersela con ristoratori e gente che non ha il vaccino cioè è sbagliato però non è giusto in questo con c'è in questo momento di astio ormai politico perché le fazioni si stanno molto politicizzando come abbiamo visto nell'ultimo periodo è sbagliato discriminare ma perché è sbagliato discriminare perché si polarizza sempre di più il dibattito quindi dobbiamo cercare in questo momento di restare uniti in primis e cercare di convincere i novax a vaccinarci questo questo perché perché ormai siamo quasi arrivati all'immunità di greggia manca veramente poco e ogni sforzo non deve essere inutile che senso ha cercare di mandare in conflitto in violenza tutto questo dibattito rischio alla nostra democrazia rischio come non mai la nostra democrazia abbiamo mai rischiato così tanto forse si ricorda gli anni delle brigate rosse si ricorda il dopoguerra ma in questo momento stiamo vivendo veramente una situazione strana una situazione ambigua dove le forze politiche anche si si contrastano tra di loro all'interno dello stesso governo quindi quale deve essere il nostro obiettivo il nostro obiettivo deve essere quello di restare calmi di cercare di non aumentare di buttare ancora più alcol sul fuoco per evitare che ci siano nuove proteste squadriste sia di matrice sinistroide sia di matrice destroide e quindi il il nostro problema ora è cercare quello di salvare la nostra democrazia per far ripartire la nostra economia anche perché sappiamo tutti possiamo essere d'accordo sul vaccino però alla fine è l'unica soluzione per poter ripartire e rilanciare la nostra economia nella nostra democrazia che veramente in crisi quindi adesso in questo momento storico possiamo anche criticare diciamo la mossa del green pass in un momento normale in un momento di non emergenza potremmo avere dei dubbi sul green pass perché alla fine l'obiettivo del green pass è cercare di rendere legittimo qualcosa che ha reso obbligatorio sarebbe stato illegittimo come l'obbligo vaccinale però il fine del green pass non dobbiamo pensare che sia questo il fine del green pass dobbiamo pensare che sia il fatto di rilanciare nostra economia di non rimanere di nuovo imprigionati in il lockdown in situazioni economiche veramente disastrose come è stata nella prima nella seconda ondata quindi è stato un intervento forzato un intervento che magari il governo non voleva neanche fare ma che era doveroso fare per cercare di rilanciare la nostra economia dovessi parlare con uno vax probabilmente direi guarda secondo me lascia perdere davvero non sprecare tutte queste forze perché è inutile una battaglia già persa ormai la comunità il collettivo ha deciso che questa è la strada giusta per cercare di rilanciare nostra economia e quindi dobbiamo cercare capire dobbiamo capirlo tutti che è l'unica soluzione però bisogna anche rispettare chi non vuole farsi il vaccino ma ha la responsabilità si prende la responsabilità di pagarsi i tamponi ogni giorno e spendere una fortuna per fare ormai qualsiasi cosa ecco dobbiamo rispettare anche queste persone e cercare di convincere quella piccola percentuale di persone che è ancora in dubbio ovviamente è una parte ormai ha deciso di non fare il vaccino a prescindere però la responsabilità è tutta loro punto e basta grazie all'attenzione e ci vediamo la prossima puntata di rock politics grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti